La delibera ha stanziato 4 milioni, quindi questo per le prime attività. La fase di ricognizione del danno arriverà in monquantum, però ripeto, quello poi va inserito in un contesto più generale. Siamo in direttura d'arrivo per una legge delega di iniziativa parlamentare che ha come obiettivo la riforma del sistema di protezione civile. Ci si sta lavorando da diversi mesi, anzi devo dire che su questo c'è molto fermento, c'è molta attenzione e credo che sia necessario, ripeto, non tanto per la legge Monti, ma la legge Monti poi a sua volta è stata cambiata più volte e oggi su questo tipo di eventi abbiamo da riallineare il sistema rispetto alle esigenze. Noi spingiamo affinché ci siano dei sistemi di prevenzione del rischio. Su questo dobbiamo lavorare intanto da un punto di vista culturale, perché l'ho detto più volte, la richiesta di sicurezza deve essere manifestata prima dell'emergenza. Allora dobbiamo anche domandarci quante volte questa richiesta viene manifestata prima e quante volte invece viene manifestata dopo. Purtroppo noi assistiamo a piani anche ottimi che però vengono messi in essere dopo che l'evento si è già verificato, quindi in qualche modo la consapevolezza si raggiunge nel momento in cui uno viene toccato. Allora su questo bisogna lavorare sul cittadino, sulle istituzioni, per far sì che ci sia una consapevolezza maggiore del rischio prima dell'evento. Ma questa è, devo dire, un'emergenza particolare proprio perché queste fenomenologie di eventi sono molto concentrati ma producono dei danni elevatissimi. Si vede in maniera evidente che qua l'infrastruttura sembra colpita da un terremoto, quindi concentrata, si vede proprio la scia del passaggio del tornado, quindi molto concentrata ma con un impatto molto molto importante. Intanto mi sembra, come dire, di dare una testimonianza rispetto a quello che è stato fatto sia nella gestione emergenziale perché anche qua viene dato prescontato alcune cose che non sono sempre scontate. C'è stata un'ottima gestione emergenziale di primo impatto. Devo dire che nelle zone dove non c'è questo livello di devastazione già non si apprezza più il passaggio, quindi si testimonia il fatto che ci si sono rimboccate le mani che si sta lavorando. Per il resto c'è da dire che il sistema oggi funziona così, bisogna prendere atto di come funziona il sistema, capire i lati positivi del sistema e poi lavorare insieme per risolvere i problemi che riguardano il Veneto, ma non solo il Veneto.